ciao raga alla un caldo becco io arrivo a 52 gradi e sole e 43 all'ombra quindi mi metto a quest'ora e sono le 7 le 8 le 8 per ora mi rimane da attaccare questi delle marce va bene che è semplice semplice facile facile e veloce veloce anche per dire ci sta tutto esterno non è come la specie è tutto incastrato di cambio il cilindro devi la cioccia prendi smonti il cilindro e lo andi in belle feste a finire il carburatore è qui no nella specie invece leva e serbatoio portapacchi e le manche portapacchi a proposito portapacchi guarda il bellino l'ha voluto lui ora qualcuno dirà ma questo intorno 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 bene lui ha voluto questi cambiamenti qui per farla quella millennium che poi sarebbe il centenario nemmeno il millennium perché millennium ancora non capivo il discorso delle frecce lampadine arancioni eccole qua lampadine arancioni con le frecce bianche queste ora vanno sui di dietro davanti li ho messo ora vediamo un un pochino c'è da mettere le leve tutto ecco qua qua la lampadine è rimesso non era di là la lampadine va bene e male qua 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 pa correspondsco questo qua bene ragazzi qui di cambiare tutto l'impianto elettrico che questi c'avevano c'aveva dei fastom tipo questi qui tipo questi da attaccare e invece il faro vecchio c'era il fasto normale da attaccare sul faro io ho messo ieri messo fastom io lo sigillo tutti per bene che sennò si toccano insieme fanno massa e le zanzare ci ammazzano mi posso dire una cosa spettacolare no vela di una cosa spettacolare poi vali le strisce pedana che l'ha messe ti piace mettere le strisce pedana e queste montate senza la macchinetta la titta leggeva di sopra non c'è rivetti 10 ribattini la leggeva di sopra e in mire di sotto li ribatteva va bene raga comunque ve lo dico sinceramente io certe volte metto fa una cosa e lei dice no ti avevo detto gira di là passalo di là o non c'aveva ragione lei grazie quando si dice quando l'operaio supera il maestro ascolta me lo fa piacere mi aumenti di due punti il getto lì su quella lì come che vuol dire il carburatore levi il serbatoio smonti il carburatore e metti due punti in più noi vi saluta con tutto il cuore e si ringrazia quelli sono venuti ieri mi ricordo i nomi di nessuno dei due devo andare a vedere mario dario no mario 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 dario e massimiliano come bambini no massimiliano rifiuto vabbè comunque raga noi vi si ringrazia alessandro e figliolo si avete visto oggi su youtube o instagram ma lo so va bene noi vi si manda un gran salutone ciao raga e vi si manda anche un bacino un diretto allora glielo devi mandare a noi ciao raga oh funziona va bene fischia la 200px arcobaleno eccoci tanto se leon inciampava se tutti i giorni leon picchia qualcosa non è contenta la mattina si sveglia borda alla finestra che ci va a fare la gioventù la gioventù ti possa di nosa ti possa di nosa pipì sei vecchia devi dormire davvero e ascolta c'è da smontare questo motore qui c'è da smontato da pulirlo da lavarlo e revisionarlo ci pensi te ci penso io, ci penserò dove, quando? quando sarà il suo momento ha cappellini dappertutto va bene raga e nulla questo mutatore lo potete trovare benissimo da tutte le parti vedete se pigiate qua c'è le quattro frecce così è spento qui c'è le quattro frecce allora su quello vecchio i fili sono saldati voi basta che li dissaldate li pulite e in questo qui poi c'è la vitina da avvitare per fermare il cavo non è da risaldare c'è la vitina da fermare semplice semplice facile facile e anche posso dire veloce 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 il faro ve l'ho spiegato queste della millennium e e trasparente il nasello uguale o la resta non la volete chiamare le frecce uguali e le lampadine arancione mi raccomando perché sennò non va bene d'accordo un saluto il vostro carissimo il re d'accordo raga ciao buon appetito a tutti questo video esce domani alle due ciao ciao